Nuovi guai giudiziari per Dominique Stroscan. La procura di Parigi ha aperto il 28 luglio un'inchiesta per truffe e appropriazione in debita nei confronti dell'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale. I fatti risalgono al 2014, quando Stroscan era nel CDA del gruppo di investimenti finanziari LSH, che lasciò un buco da 100 milioni di euro.